Benvenuti a questo seminario online su insegnamento della filosofia e argument mapping. Intanto ringrazio i partecipanti per la fiducia che mi danno nel seguire un intervento su un argomento piuttosto inconsueto per gli insegnanti di filosofia e in generale per la didattica della filosofia. Credo che in Italia non siamo in tanti quelli che utilizzano la strategia dell'argument mapping per insegnare filosofia a scuola. In questo mi sento come quelli che essendo i primi non sanno se stanno scoprendo qualcosa di nuovo e interessante o si sono semplicemente persi e sono i primi solo perché gli altri avevano capito prima che quella era una strada senza uscita. Intanto mi presento, io mi chiamo Pietro Alotto e insegno filosofia e storia in un liceo della Valdifienne in Trentino. Mi occupo da diversi anni di didattica con le nuove tecnologie, di didattica della filosofia, argomentazione, argument mapping, temi su cui negli anni ho tenuto diversi corsi di formazione. Sono autore di alcuni saggi su questi argomenti e più recentemente di un manualetto, un fascicolo legato con la nuova edizione del Reale Anticesi, la storia delle idee filosofiche e scientifiche, un manualetto dal titolo Laboratorio di argomentazione. Infine tengo dal 2017 un blog sulla piattaforma Medium dal titolo La scuola che non c'è, in cui mi occupo di scuola, di didattica, con le nuove tecnologie ed in particolare di didattica della filosofia, di pensiero critico e argoment mapping. Di cosa parleremo? Quando si chiede a qualcuno di modificare il proprio modo di fare qualcosa che fa da sempre e che lo accomuna alla stragrande maggioranza di chi fa lo stesso mestiere, corre l'obbligo di giustificare la necessità o quantomeno l'utilità di cambiare e a questo cercherò di rispondere nella prima parte di questo seminario ponendomi appunto il problema di quale idea della didattica della filosofia possa esserci dietro la proposta di introdurre il mapping argomentativo della scuola. Nella seconda parte del mio intervento invece mi occuperò di spiegare cosa sono le mappe di argomento, i diagrammi di argomento e a che cosa servono. Infine l'ultima parte di questo incontro sarà dedicato ad alcuni esempi di analisi argomentativa, cercando anche di far vedere come concretamente si può operare per passare da un testo argomentativo a una mappa argomentativa. Ma veniamo al tema di questo webinar. La filosofia è per ogni filosofo qualcosa di diverso. Mettersi a discutere su quale sia la risposta corretta, la domanda che cos'è la filosofia, significa avventurarsi in un mare tempestoso di diatribe di cui quella fra analitici e continentali è probabilmente solo la punta di un iceberg. A seconda che la risposta alla domanda sia di un tipo piuttosto che di un altro, segue una certa idea su cosa deve essere insegnata a scuola e sul modo di insegnarlo. Se tutti gli insegnanti di filosofia possono convergere sulle finalità formative ultime dell'insegnamento di questa disciplina a scuola, e cioè quello di insegnare a pensare con la propria testa, di sviluppare un atteggiamento critico sul mondo, di imparare genericamente a ragionare meglio, le opinioni poi divergono quando si tratta di indicare come farlo, cioè come riuscire ad ottenere le finalità formative che ci proponiamo di ottenere. Ora, possiamo, tagliando alla grossa le opinioni sull'argomento, distinguere fra una maggioranza stralipante di sostenitori del metodo storico tradizionale e uno sparuto gruppo di insegnanti che non crede più che insegnare chi ha detto cosa, come e perché, possa portare a perseguire le finalità formative che pure a parole ci proponiamo. In mezzo, per dir così, ci stanno poi tutti quelli che, pur volendo introdurre metodi e strategie nuove, vogliono però mantenere l'impianto tradizionale della propria didattica. In tutto ciò, come si può notare, non ho parlato di contenuti. La polemica sui contenuti, se preferire il percorso storico piuttosto che quello per temi e problemi, sembra mai essersi sedata in qualche modo. Ecumenicamente i nostri manuali mantengono il percorso storico intermezzandolo con temi e problemi i più diversi per andare un incontro al gusto di tutti. Rimane comunque la domanda chiara, è il modo tradizionale di insegnare filosofia funzionale all'obiettivo formativo che si vuole perseguire, cioè quello di formare pensatori critici, ragazzi capaci di usare la propria testa in autonomia. Diciamo subito che io ritengo che l'insegnamento della filosofia sia un'ottima palestra per esercitare il pensiero critico e performare al pensiero critico. Ma credo anche che per farlo bisogna mirare in modo consapevole e intenzionale allo sviluppo di quelle abilità di pensiero che ne stanno alla base. In genere si tende ad avere una visione olistica, per dire così, di cosa sia la mente critica in cui non si capisce bene come declinare ciò che dovrebbe essere capace di fare in termini di prestazioni ed abilità un pensatore critico. Cos'è un pensatore critico? Se non siamo capaci di definire cosa caratterizza il pensare critico e quindi il pensiero critico e cosa dovrebbe essere capace di fare. Chi è dotato di queste abilità collegate col pensiero critico non si va molto lontano. Manca in Italia uno sforzo come quello fatto nel mondo anglosassone negli ultimi 50 anni di definire in modo concreto e operativamente spendibile il carnet di abilità collegate con la formazione al pensiero critico. Spesso si confonde il pensiero critico con l'atteggiamento del dubitare sistematico, ma come già diceva il buon Hegel, un chiedere fino a se stesso il perché di qualsiasi cosa non è saggio, anzi è una forma di stupidità. Il perché dei bambini ad un certo punto ci infastidisce perché sembra illogico questo continuare a chiedere che non si accontenta mai di nessuna risposta. Il fatto è che anche chi sostiene che l'insegnamento della filosofia dovrebbe puntare sulle competenze logico-argomentative si ferma poi quando deve indicare come fare la scuola. Eppure dovrebbe essere chiaro a chiunque che se di abilità da potenziare e da costruire, si tratta, allora bisogna essere capaci di indicare delle strategie didattiche per la loro formazione. Di quale insegnamento della filosofia stiamo parlando? Nell'insegnamento tradizionale una gran parte del nostro lavoro e di quello degli studenti è occupato nell'insegnare e nello studiare da parte degli studenti ragionamenti già fatti e deposti. Ma depositare in memoria strati di teorie filosofiche e ragionamenti già svolti in che modo può produrre menti aperte e critiche? Ora non sto dicendo che non si debbano studiare grandi filosofi e le loro argomentazioni, dico che non ci si può limitare a quello. Direste ad uno che vuole imparare a dipingere, di studiare solo la storia dell'arte, che non serve altro che imitare le opere dei grandi artisti, conoscerne la vita, sapere cosa hanno creato, la genesi delle loro opere, di cosa parlano, chi sono i personaggi raffigurati? Ebbene, questo è quello che spesso chiediamo ai nostri studenti di filosofia, di imparare a pensare studiando la storia dei grandi pensatori della filosofia, la loro vita, la genesi delle loro opere, i contenuti delle loro opere. Ritornando sulla nostra analogia, non voglio dire che non si è un pittore migliore se non si ha una conoscenza di ciò che i grandi pittori hanno fatto nella storia prima di noi, o se qualche volta non li si imita riproducendone le opere. Dico tuttavia che non si impara a dipingere studiando o imitando semplicemente i dipinti degli altri. Ci può essere grandi conoscitori della storia dell'arte, ma essere pessimi artisti, altrimenti, se non fosse vero questo, tutti i grandi storici dell'arte sarebbero stati anche grandi pittori. Nelle scuole di pittura si insegnano le tecniche, si impara a conoscere i materiali e così via, e poi li si utilizza per creare qualcosa. Si studiano i modelli per comprendere come i grandi pittori hanno fatto a creare le loro opere e tuttavia dopo ci si cimenta utilizzando le strategie che si sono imparate. Nello studio della filosofia questo apprendistato in generale non si fa. Insegniamo ragionamenti, ma non insegniamo a ragionare, insegniamo pensieri, non insegniamo a pensare. Siamo succubi di una pedagogia dell'imitazione secondo la quale, riproducendo ragionamenti altrui, impareremo a farne di nostri. Anche quando ci cimentiamo nella lettura diretta dei testi filosofici, la mediazione dei commentatori è talmente invasiva e analitica che lo sforzo del pensiero è quasi annullato. Sembra che il contenuto da far passare ciò che l'autore ha detto sia più importante dell'abilità da potenziare, la capacità di comprensione, la capacità di analizzare argomentazioni, la capacità correlate con il cosiddetto ragionamento analitico. D'altra parte, come farebbero gli studenti a comprendere e ad analizzare testi argomentativi anche di una certa complessità, se non abbiamo loro fornito gli strumenti per fare la sé, le tecniche, i materiali, i modelli di qui sopra. Si tratta di strumenti, quelli che dovrebbero essere utilizzati dagli studenti per analizzare testi, per comprenderne la portata argomentativa, per poterne dare un giudizio, per poterli valutare e poi per poterne creare di argomentazioni di proprie che in parte fanno parte di quello che possiamo chiamare una sorta di dotazione naturale dello studente, ma in parte si tratta di qualcosa che si deve apprendere e che si deve potenziare con l'esercizio e l'allenamento. C'è stato un tempo in cui lo studio della logica introduceva e accompagnava lo studio della filosofia, ma questo non avviene più da molto tempo, con un ovvio detrimento del pensiero in generale. E non è una questione di nuove discipline da introdurre, quanto piuttosto quello di integrare la riflessione sulla logica dei nostri ragionamenti e dei nostri metodi d'indagine, delle diverse discipline, all'interno dell'insegnamento. In filosofia questo si traduce nel ridare spazio alla parola e ai pensieri dei filosofi direttamente sui loro testi, non solo come riscontro per ciò che viene detto nella parte espositiva del manuale, ma come oggetti di studi ad analizzare, comprendere e valutare, per apprendere come si ragiona e quindi come si argomenta. Analizzare e comprendere come ragionano gli altri per analizzare e comprendere come migliorare i nostri di ragionamenti. Significa quindi dare spazio, dignità alla dimensione laboratoriale. La classe di filosofia come luogo in cui gli studenti, da soli o meglio in gruppo, smontano e rimontano le argomentazioni dei grandi filosofi, affrontano le diverse soluzioni date dai diversi filosofi ai grandi problemi della filosofia, si cimentano in valutazioni e perché no, provano anche a correggere le argomentazioni dei filosofi studiati, inventano e dibattono linee argomentative originali per classici problemi della filosofia. Insomma, fare della classe di filosofia un laboratorio in cui si forniscono strumenti e strategie e si costruiscono in modo attivo e consapevole abiti mentali, atteggiamenti, concettualizzazioni, abilità di lettura e di analisi. E arriviamo così al cuore del problema, posto che per permettere agli studenti di esercitare l'arte dell'analisi, della produzione, della valutazione, di argomentazioni. È necessario fornire agli studenti strumenti, conoscenze e tecniche per affrontare questi compiti? Come farlo? Come insegnare, cioè il ragionamento analitico, l'argomentazione a scuola in modo produttivo, avendo di mira un miglioramento nelle abilità che si cerca di potenziare. A questo può servire l'introduzione dell'argument mapping nell'insegnamento. Sgombriamo innanzitutto il campo da un pregiudizio molto comune che vuole che non si possa imparare a ragionare, ad argomentare, a valutare ragionamenti, argomentazioni senza conoscere la logica formale. Non so se vi è capitato di notare come spesso i testi che parlano di argomentazione e vogliono insegnarla nella scuola fanno il loro doveroso omaggio alla logica, dedicando anche molte pagine, nei loro volumi, alla presentazione di elementi di logica, enunciativa, predicativa. Salvo poi quando fanno concreti esempi di analisi, non farne nessun uso o quasi. Ebbene, l'analisi svolta col mapping degli argomenti permette di affrontare l'analisi di ragionamenti e argomentazioni senza usare formalismi, senza appellarsi ad astratte regole formali di deduzione o a traduzioni uniformi degli argomenti svolti nel linguaggio ordinario in un linguaggio formalizzato. Naturalmente non sto dicendo che lo studio della logica, della teoria dell'argomentazione non serve a nulla. Analizzare e valutare argomentazioni in modo esperto necessita di una conoscenza non superficiale della logica elementare, delle tecniche argomentative, delle fallacce. Tuttavia è possibile iniziare ad imparare a analizzare, visualizzare ragionamenti, e argomentazioni con poche nozioni di base, apprendendo il resto mano a mano che si diventa più esperti e utilizzando la tecnica del mapping argomentativa. Le mappe argomentative o di ragionamento sono, come vedremo, un tipo particolare di mappa che differisce da altre ormai note molto utilizzate a scuola, anche se non sempre in modo appropriato, le mappe mentali e le mappe concettuali. In genere le mappe mentali, concettuali e argomentative sono presentate come strumenti per rappresentare visivamente la conoscenza. Ma questa realtà, come vedremo, è riduttiva. Le mappe sono più che una mera rappresentazione grafica di concetti o di enunciati e delle loro relazioni. Sono strumenti che possono aiutarci a pensare meglio, perché possono aiutare la nostra capacità creativa. Le mappe mentali, per esempio, le nostre capacità di analisi, le mappe concettuali e argomentative e di ragionamento. Oggi abbiamo a disposizione diversi software per creare mappe mentali, concettuali e solo negli ultimi anni sono stati proposti software anche per la creazione di mappe argomentative. Su questo avremo modo di parlare più avanti. Quello che vale la pena sottolineare è che si tratta di software che non fanno il lavoro per noi. Il lavoro di analisi, di distillazione concettuale, di riorganizzazione sintetica di concetti e relazioni devono essere fatte da noi. Ecco perché possiamo parlare a proposito di questi software, di tecnologia buona, perché per usarla abbiamo bisogno in qualche modo di fermarci ad analizzare, di comprendere più a fondo i testi che mappiamo. Insomma, per fare delle mappe utili dobbiamo fermarci a riflettere e a ragionare. Ma allora, cosa sono le mappe argomentative? Ed entriamo nel cuore di questo seminario. Le mappe di argomento sono schemi, configurazioni, diagrammi che semplificano la più complessa realtà di un ragionamento o di una argomentazione reale. Un test argomentativo, come sappiamo, non c'è solo il ragionamento logicamente stringente, ma ci sono ridondanze, ci sono elementi retorici, ci sono parti espositive e così via. Lo scopo della diagrammazione dei ragionamenti e delle argomentazioni è quello di rivelarne l'ossatura logica al fine di comprendere al meglio ciò che viene asserito, il modo in cui ciò che viene asserito viene giustificato e la possibilità, quindi dando la possibilità a chi ha analizzato, di poter valutare criticamente l'argomentazione e quindi di poterne dare un giudizio ed eventualmente di poter attaccare o confutare i singoli argomenti o l'argomentazione della sua generalità. Le mappe argomentative, come dicevamo, o di ragionamento sono un tipo particolare di mappa che differisce dalle mappe mentali alle mappe concettuali. Qui vediamo tre tipi di mappe, appunto, una mappa mentale in cui le relazioni tra i diversi enunciati sono di tipo puramente associativo, una mappa concettuale in cui le relazioni sono solo da concetto a concetto, mentre invece le mappe argomentative sono molto più complesse e mettono in relazione, come potete vedere, enunciati con enunciati. Le mappe argomentative nascono infatti per diagrammare la struttura inferenziale di argomentazioni anche complesse. I collegamenti fra i diversi box in cui vanno riportati gli enunciati indicano rapporti di inferenza, perché ne consegue che, si conclude che, dato che, in base a, e così via. L'architettura grafica di un diagramma di argomento o di ragionamento è abbastanza semplice. La struttura è quella di una struttura gerarchica ad albero capovolto in cui alla sommità ci sta la tesi, in cui espressa con un singolo enunciato e a supporto della tesi possono esserci inverte delle ragioni, gli argomenti a sostegno, che a loro volta possono essere supportate da ulteriori ragioni e a loro volta queste possono essere supportate da quelle che si chiamano le basi o i fondamenti, le fonti o le evidenze su cui si basano appunto gli enunciati sopra. Oppure possono essere delle obiezioni in rosso, anche queste supportate da ragioni, oppure con obiezioni alle obiezioni, le refutazioni, in cui ad un'obiezione si oppone una ulteriore obiezione, appunto una refutazione. I diagrammi di ragionamento non sono una cosa recente. I primi diagrammi di ragionamento iniziano a circolare in alcuni manuali di logica dell'Ottocento. Il logico Woselis negli elementi di logica, un testo del 1852, già proponeva un diagramma di questo tipo. In questi manuali però i diagrammi servivano ad analizzare, visualizzare inferenze ad imitazione della visualizzazione grafica delle operazioni matematiche e ancora oggi nei corsi di logica formale spesso le dimostrazioni dei teoremi vengono svolte con questi complessi alberi di ragionamento. L'analisi e la diagrammatura degli argomenti risponde però a esigenze diverse. Non si tratta di dimostrare nulla attraverso l'applicazione delle regole formali, quanto piuttosto di analizzare, comprendere e poi valutare il modo in cui una tesi o una posizione viene supportata con ragioni. La questione cruciale quindi riguarda l'accettabilità o meno delle premesse, quindi la loro verità, probabilità, verosimiglianza. E questo perché? Perché qualsiasi argomentazione in realtà può essere riportata ad uno o più schemi di ragionamento in cui la tesi è la conclusione valida di un'inferenza corretta. Il primo a utilizzare una schematizzazione degli argomenti utilizzando una ontologia differente da quella tradizionale che riconosce semplicemente all'interno di un argomento premesse e conclusioni è stato Stephen Tullman, il quale nella sua opera germinale Gli usi dell'argomentazione fu il primo ad occuparsi di analizzare la struttura degli argomenti formulati nel linguaggio ordinario, individuando la diversa natura delle premesse coinvolte. Tullman mise in rilievo che non tutte le premesse sono uguali. Alcune indicano conclusioni, altre dati, altre regole o garanzie, altre ancora basi o fondamenti. A queste premesse che sono asserzioni Tullman aggiungeva poi le riserve e i qualificatori che in realtà asserzioni non sono bensì parole o espressioni come a meno che, fatta eccezione per, probabilmente, con certezza, eccetera. Perché questo passaggio è importante? Perché la diversa natura delle premesse implica modi diversi di valutazione e di accettabilità. I dati sono fatti, le garanzie sono principi di carattere generale di vario tipo, i fondamenti sono evidenze di qualche tipo, fonti autorevoli, dati statistici, definizioni, opinioni comuni. E la valutazione di queste premesse necessita di visualizzarle nella loro formulazione esplicita perché possano essere comprese e per poterne vedere le implicazioni. E a questa ontologia di ascendenza Tullmiana che si rifanno, si rifà l'ontologia delle argman mapping che oggi vengono utilizzate nei software che sono stati creati per realizzare appunto la diagrammatura. Non in tutti i software in realtà, ma in alcuni sì e sicuramente in quelli che io propongo di solito nelle mie classi. Per analizzare, visualizzare un'argomentazione alla fine abbiamo bisogno di familiarizzarci solo con poche categorie di analisi. E questo varia anche per gli studenti. Gli studenti devono comprendere che ogni argomentazione può essere sostanzialmente analizzata nei termini di tesi, dati, regole. La tesi è ovviamente la posizione che viene sostenuta o la conclusione di un ragionamento. Il dato assieme alla regola permettono di inferire la conclusione. La regola o la garanzia è ciò che permette di passare dal dato alla conclusione, mentre invece il dato è l'informazione che viene data. Nell'esempio qui a fianco vedete come diversi dati, attraverso un argomento di carattere induttivo, il fumo provoca gravi danni all'apparato respiratorio, altere il funzionamento del sistema nervoso, favorisce l'insorgio del tumore, portano alla generalizzazione che il fumo danneggia la salute, che unita alla regola e bene astenersi da comportamenti che danneggiano la salute, porta alla conclusione è meglio astenersi dal fumare. Un altro esempio della struttura di un argomento può essere questa. Dio è l'essere di cui non si può pensare il maggiore, l'essere di cui non si può pensare il maggiore è perfetto. Se è perfetto non può mancare di nulla, dunque Dio non può mancare di nulla. Se Dio non esistesse mancherebbe dell'esistenza, dunque Dio esiste. Il fondamento della premessa 2AC è una definizione per cui perfetta è qualsiasi cosa che non manchi di nulla. Bene, per diagrammare qualsiasi argomentazione abbiamo bisogno di poche strutture di base, che possono essere poi iterate ripetutamente. Il più semplice argomento in cui ci possiamo imbattere è quello in cui c'è un'unica premessa per la conclusione, come nell'esempio qui accanto ogni legge è una violazione della libertà, dunque ogni legge è un male. In realtà anche gli argomenti semplici con un'unica premessa hanno una premessa nascosta, cioè non c'è argomento che non ne abbia almeno due e questa è quella che viene chiamata regola aurea. Negli argomenti semplici, cioè la seconda premessa è semplicemente non lessicalizzata, è nascosta perché data per evidente, perché data per nota, eccetera eccetera. Ma la premessa nascosta lavora assieme all'altra premessa per stabilire la conclusione e l'una ha bisogno dell'altra per condurci alla conclusione. E linkata, diciamo così, sono linkate assieme. Così per esempio, nell'esempio precedente, ogni legge è una violazione della libertà. La premessa nascosta è che la violazione della libertà è un male, da cui la conclusione ogni legge è un male. Un argomento con due premesse esplicite viene generalmente detto complesso. Se Tizio ha sparato deve presentare tracce di polvere da sparo su di sé. Tizio presenta tracce di polvere da sparo sui vestiti, dunque Tizio ha sparato. Un argomento complesso può essere un argomento multiragione o, come si dice anche, convergente, cioè un'argomentazione in cui la tesi è supportata da più ragioni o argomenti indipendenti l'uno dall'altro, come nell'esempio qua vicino, accanto, in cui la tesi che occorre eliminare la pena di morte dalla legislazione di tutti i paesi civili è sostenuta da tre argomenti indipendenti. La pena di morte è inutile, la pena di morte non è necessaria, la pena di morte è ingiusta. Un diverso tipo di argomento è l'argomento a catena, un argomento in cui la conclusione di un argomento diventa la premessa, detta anche lemma, dell'argomento successivo, costruendo appunto una vera e propria catena argomentativa. Nell'esempio accanto, la legge umana oggi è concepita per la moltitudine degli esseri umani, la maggioranza degli esseri umani non è perfetta in virtù, le leggi umane non vietano tutti i vizi, i vizi si contrappongono alle virtù, dunque la legge umana non prescrive tutti gli atti di virtù. Infine esistono altri tipi di argomentazione ancora più complessa che mettono assieme argomenti multiragione e argomenti a catena, come in questo esempio di un articolo di Burioni. Diagrammare un testo sulla base di queste strutture di argomento che abbiamo visto può essere anche molto complicato, è inutile negarlo, quando soprattutto le argomentazioni si dilungano per diversi paragrafi o addirittura per diverse pagine. Esistono tuttavia delle strategie di analisi che possano aiutarci nell'impresa. Qui a fianco vedete un testo di Gorgia, la celebre testo sul non essere, che indubbiamente quando viene proposto, quando io lo propongo agli studenti, comporta parecchi mal di pancia. In questo esempio vedete da un lato un testo che è l'argomentazione utilizzata da Sant'Omaso, la prima via per provare l'esistenza di Dio e dall'altra c'è la mappa argomentativa del testo. Come si arriva dal testo alla mappa? Esistono delle procedure, delle strategie ovviamente di analisi che possono essere utilizzate e che ovviamente dovranno essere insegnate agli studenti. Innanzitutto bisogna partire dal ricordare che cos'è un ragionamento. Un ragionamento è un'inferenza in cui una tesi, la conclusione appunto, viene stabilita, inferita a partire da altre tesi o affermazioni dette premesse. Ogni tesi deve essere formulata in forma di enunciato dichiarativo o di enunciato condizionale del tipo se allora, perché solo questi due tipi di enunciati, come sappiamo, possono essere veri o falsi. Quando si ricostruisce un argomento non è importante soffermarsi sul modo in cui qualcosa viene detto, la forma linguistica, quanto su ciò che viene detto, il significato o la proposizione. Dire che Pietro ha vinto le elezioni e le elezioni sono state vinte da Pietro sono due enunciati diversi ma che esprimono una medesima proposizione. In ogni box del diagramma va riportato solo un enunciato dichiarativo o condizionale ben formato, ottenuto anche facendo un'operazione di parafrasi del testo. Come procedere? Si può procedere in due modi. Una è la strategia di partire dall'alto, cioè partire dalla tesi per poi recuperare mano a mano le ragioni a supporto, oppure si possono individuare tutti gli argomenti all'interno del testo per poi risalire alla tesi che essi supportano. In genere è preferibile partire subito dalla tesi, ricercare la tesi. La tesi va ricercata, un indizio per riuscire a individuare la tesi è quello di ricostruire la domanda chiave che è alla base dell'argomentazione. Ogni tesi non è altro che la risposta alla domanda o al problema che l'autore si era posto nel costruire il suo ragionamento o la sua argomentazione. Quindi ogni argomentazione che cos'è? Non è altro che un discorso in cui si sostiene una posizione supportandola con ragioni. La prima cosa da fare è andare alla ricerca della tesi. Nell'esempio che qua riportiamo, anche se alle persone che parlano di significato sociale delle arti non piace ammetterlo, musica e pittura sono destinati a soffrire quando si trasformano in meri veicoli di propaganda. Infatti la propaganda fa appello ai sentimenti più crudi e volgari, guarda per esempio le misturosità accademiche prodotte da pittori nazisti ufficiali, cosa ancora più importante, l'arte deve essere fine a se stessa per l'artista perché l'artista può fare il meglio solo in un'atmosfera di completa libertà. Individuata la tesi, in questo caso implicita, le arti non possono avere un significato sociale, si vanno a ricercare le ragioni che vengono portate a supporto della tesi, cioè gli enunciati che stabiliscono perché dobbiamo credere alla tesi. Quando la argomentazione ha la forma di una dimostrazione le ragioni coincideranno con le conclusioni e le sottoconclusioni dei diversi passaggi argomentativi, ma tranne che nelle dimostrazioni formali in genere le argomentazioni filosofiche hanno una forma diciamo così meno rigida e meno strutturata. Per aiutarci nella ricerca possiamo fare affidamento su particolari indicatori argomentativi che in qualche modo ci indicano il ruolo che una data enunciato ha all'interno del ragionamento. I segni di interpunzione, la forma verbale, i connettivi e argomentativi come poiché, perché, dato che, si conclude che, ovviamente possono esserci di grande aiuto. Nel caso qua dell'esempio che stiamo analizzando ho segnato in rosso alcuni indicatori in qualche modo che possono aiutarci a comprendere e individuare argomenti e sotto argomenti. Una volta individuati tesi e ragioni dobbiamo ricostruire la struttura dell'argomentazione. Uno dei suggerimenti che si può dare anche agli studenti è quello di separare gli enunciati all'interno del testo e di numerarli. Mettere tra parentesi gli indicatori di premessa di conclusione che potrà tornare utile quando poi andremo a realizzare il vero e proprio diagramma. Quindi partiamo dalla tesi e dalla linea di ragionamento principale. La linea di ragionamento principale è data dalla tesi più gli argomenti, cioè le premesse, diciamo così, che portano alla tesi conclusione del ragionamento. Dopodiché si procede con gli argomenti secondari fino alle evidenze, agli esempi o alle basi. Nel testo che abbiamo individuato e che stiamo analizzando si vede come la tesi appunto è il fatto che l'arte non ha un significato sociale, dopodiché gli argomenti principali sono in rosso, i sotto argomenti a sostegno degli argomenti principali sono in arancione, l'esempio in questo caso è in verde. Dopo aver individuato ed esplicitato la tesi, dopo aver riconosciuto gli argomenti ed esplicitato le premesse nascoste, e su questo torniamo fra un attimo, realizziamo il diagramma dell'argomento. Il diagramma dell'argomento è quello che si vede a destra. Va sempre detto che ogni lettura, ogni analisi è sempre un'interpretazione, quindi anche le mappe che possono essere costruite non è detto che siano le uniche possibili, cioè si può anche pensare di costruire o di ricostruire o di analizzare in maniera differente lo stesso testo. Naturalmente esistono mappe argomentative più vicine oggettivamente al testo stesso e altre che possono in qualche modo non avvicinarsi adeguatamente. Una mappa ben formata è una mappa che dovrebbe essere capace di rendere conto di tutte le parti argomentative del testo. Se c'è qualche parte del testo che non rientra nella nostra interpretazione nella linea argomentativa o di ragionamento che abbiamo ipotizzato, probabilmente c'è qualcosa che non va nella costruzione o nella ricostruzione della nostra argomentazione. Ma parlavamo di premesse nascoste. Uno dei problemi che si possono incontrare, si incontrano spesso nell'analisi di un'argomentazione o di un testo argomentativo, è il fatto che la natura economica del linguaggio, il fatto che si cerca di dire il più possibile con il minor numero di parole, porta molto spesso a possibili fraintendimenti o a incomprensioni. Il compito in sede di analisi è appunto quello di ricostruire le parti mancanti del testo, le parti mancanti dell'argomentazione. Facciamo questo esempio che ho proposto anche ai miei studenti con alterna fortuna. Non si può credere che prendere parte di una guerra sia giusto e che l'omicidio sia sbagliato. La guerra provoca sempre migliaia, se non centinaia di migliaia di omicidi. Ebbene, il testo è anche abbastanza semplice, proposto agli studenti ha portato a diagrammi di argomento del tutto fuorbianti o del tutto sbagliate. Cos'è che veramente viene sostenuto in questa argomentazione, in questo testo? È che non si può credere che prendere parte di una guerra sia giusto e che l'omicidio sia sbagliato. Ma come arriviamo a questa conclusione del ragionamento partendo semplicemente dal fatto che la guerra provoca sempre migliaia, se non centinaia di migliaia di omicidi? E cosa c'è di sottinteso che va esplicitato? Allora, se noi tiriamo fuori, proviamo a tirar fuori le premesse nascoste che permettono di poter avanzare nel ragionamento per arrivare poi alla conclusione della tesi del testo stesso, vediamo quanto c'era di nascosto e come ciò che in qualche modo era dato per scontato in realtà sia un elemento poi che mette in crisi, una volta esplicitato, la sequenzialità, la coerenza e la di tutto il ragionamento. Quindi la guerra provoca sempre migliaia, se non centinaia di migliaia di omicidi. L'omicidio è sbagliato, dunque la guerra è sbagliata. Prendere parte a qualcosa di sbagliato, ingiusto e ingiusto, prendere parte alla guerra è sbagliato. Se l'omicidio è sbagliato, allora prendere parte alla guerra è sbagliato. È la conclusione di questo primo ragionamento. Non è possibile sostenere contemporaneamente che l'omicidio è sbagliato e prendere parte alla guerra è giusto, senza contraddirsi. Dunque non si può credere che prendere parte a una guerra sia giusto e che l'omicidio sia sbagliato. Come si vede, per poter arrivare alla conclusione abbiamo dovuto esplicitare tutta una serie di enunciati che non erano appunto stati lessicalizzati. Basta poi per pensare semplicemente che il fatto stesso di far passare per omicidio qualsiasi tipo di atto che porti alla morte di un'altra persona è già un assunto che l'autore in qualche modo dà, ma che in realtà potrebbe anche essere discutibile. Cosa che, indubbiamente, emerge con molta chiarezza quando analizziamo il testo. Il compito, uno dei compiti quindi più importanti per chi analizza un testo, e questo vale anche per qualsiasi argomentazione, per la comprensione di qualsiasi scambio argomentativo, è quello di esplicitare le premesse nascoste, le assunzioni, le assunzioni appunto, le premesse che sono importanti per arrivare alla conclusione ma che non vengono appunto esplicitate. Per poter fare questo lavoro di esplicitazione possono essere utilizzate alcune regole in qualche modo e un principio. Anzi, un principio e tre regole. Il primo è il principio di carità. Le regole sono traduzioni molto libere di termini inglesi, quindi prendiamole così come vengono, in qualche modo. La prima regola è detta la regola del coniglio, la regola della stretta di mano, la terza la regola dell'impiccato. Allora, partiamo da questo esempio. È stato dimostrato che l'elevato numero di studenti che abbandonano gli studi è in parte determinato dall'assenza di un sistema di programmazione del numero degli scritti nelle università. L'assenza di tale programmazione è dunque una delle principali cause della disoccupazione giovanile. Allora, se noi diagrammiamo questo esempio ci accorgiamo che c'è un buco da qualche parte che in qualche modo impedisce di poter passare in maniera immediata dalla premessa alla conclusione. Se noi mettiamo nella premessa 1, che è stato dimostrato che l'elevato numero... ho mantenuto l'enunciato così come nel testo, per capire. È stato dimostrato che l'elevato numero di studenti che abbandonano gli studi è in parte determinato dall'assenza di un sistema di programmazione del numero degli scritti nelle università. Dunque, l'assenza della programmazione nel numero degli scritti nelle università è una delle principali cause della disoccupazione giovanile. Cos'è che manca? Manca qualcosa che permetta di collegare la premessa principale alla conclusione. Nella conclusione manca qualcosa che c'è nella premessa, per esempio il fatto che gli studenti... degli studenti che abbandonano gli studi, così come nella conclusione c'è qualcosa che non c'è nella premessa, cioè la disoccupazione giovanile. Se noi recuperiamo la premessa mancante, che gli studenti che abbandonano gli studi diventano disoccupati, allora l'argomento, l'inferenza risulta automaticamente pertinente. Quali sono allora come riuscire a recuperare in qualche modo le premesse mancanti? Il primo principio è il principio della cosiddetta carità interpretativa. Quando interpretiamo un testo bisogna fare un atto di carità interpretativa nei confronti di chi ha prodotto quel testo, assumendo quindi che egli sia una persona razionale con cui condividiamo un patrimonio di credenza intorno al mondo e al modo di parlare. Questo comporta che nell'esplicitare le premesse nascoste il risultato sia che esse offrano una qualche garanzia per passare dalla premessa esplicita alla conclusione. È quello che abbiamo fatto per esempio quando abbiamo ricostruito la premessa nascosta nel primo esempio di argomento semplice che avevamo fatto. La prima delle regole che possono aiutarci nel recuperare le premesse nascoste di un argomento è la cosiddetta regola del coniglio nel cilindro. Ogni parola, frase o concetto significativo che appaia nella conclusione di un semplice argomento deve figurare anche in una delle premesse. Nell'esempio che vedete a fianco vedete con le frecce indicate quali parti degli enunciati presenti nelle diverse premesse ritroviamo poi nella conclusione. La seconda regola è la cosiddetta regola della stretta di mano. La regola della stretta di mano dice che ogni parola, frase o concetto significativo che appare in una premessa di un semplice argomento ma non nella conclusione deve apparire anche un'altra premessa di quel semplice argomento. E' la regola che abbiamo utilizzato per ricostruire l'esempio degli studenti disoccupati del caso precedente. Infine la terza regola, detta anche regola dell'impiccato, che in qualche modo riprende le due regole precedenti e sintetizza. La regola dell'impiccato cosa dice? Dice che ogni termine, frase o concetto che compare in una premessa deve comparire in almeno un'altra premessa. Nell'esempio accanto, fra la premessa 1AA e la conclusione, come abbiamo visto, manca il collegamento fra l'abbandono degli studi e la disoccupazione giovani. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ci sarebbe ovviamente molto altro da dire e da esemplificare. Spero di aver mostrato come creare una mappa di ragionamento richieda di svolgere operazioni cognitive fondamentali e tutte necessarie alla decodifica di un testo, al fine di comprenderlo in modo adeguato e valutarlo. La divisione del testo in unità sintattiche, l'eliminazione delle ridondanze, il chiarimento delle oscurità, la parafrasi, la definizione delle relazioni logiche fra i diversi enunciati, sono tutte operazioni che ovviamente hanno a che fare con lo sviluppo delle abilità di ragionamento analitico e di analisi e comprensione del testo. Chiudo con alcuni software che sono stati proposti negli ultimi anni per aiutare nella costruzione, nella creazione di mappe argomentative. Qui ne vedete una breve panoramica, ce ne sono anche altri, a Tena Standard, a Raucaria, ai Logos Rational, sono solo alcuni di questi software più o meno sofisticati nella loro architettura. A questi ultimamente ce ne è aggiunto un altro, Argument Visualization, creato sotto la supervisione del professor Simon Cullen dell'Università di Stanford, un software molto semplice e anche gratuito, su cui poi metterò eventualmente dei riferimenti per un breve tutorial che avevo creato qualche tempo fa. Concludo dicendo che mi piacerebbe aprire la porta di una classe di filosofia e non vedere la riproposizione di un quadro vivente di una lezione medievale. Quanto piuttosto ragazzi che attornano un tavolo, collaborano a leggere, analizzare o ricostruire argomentazioni, usando tutto ciò che vogliono, penna, carta, tecnologie digitali, che discutono e si confrontano anche con l'aiuto del docente, sulle interpretazioni da dare a un passaggio argomentativo oppure a un'intera argomentazione, che affrontano i temi dei cari ai filosofi, il tema della giustizia nell'Atene del quinto o quarto secolo o le prove dell'esistenza di Dio nella filosofia medievale, il tutto leggendo direttamente i testi dei filosofi e dialogando con loro. I filosofi ci parlano non attraverso le loro teorizzazioni e le loro soluzioni, ma attraverso le loro argomentazioni, attraverso i loro ragionamenti, attraverso quello che avevano inventato o trovato per supportare le proprie tesi, le proprie soluzioni. Se li vogliamo prendere veramente sul serio e se li vogliamo far prendere sul serio agli studenti, dobbiamo far confrontare gli studenti con loro sul terreno che è il loro, quello delle argomentazioni che hanno elaborato per proporre e per sostenere le proprie soluzioni al problema. Con questo io concludo, ho abbondantemente sforato il tempo a mia disposizione. Spero di non avervi annoiato più di tanto e vi auguro buon pomeriggio.